Compare con un ruolo secondario nel film Pinocchio, 2002, di Roberto Benigni, ed in Malamore, sì, accanto ad Anna Maria Barbera. Nel 2010 esordisce nelle vesti di protagonista nella pellicola per Sofia, presentata fuori concorso al Festival di Venezia. Vince. Per questo film, il premio Nino Manfredi d'Oro al cinema come miglior attore emergente riceve una menzione. Speciale come miglior attore protagonista agli Awards 2010 Siciliana Film Festival di Miami.